www.feyyaz.tv Come va? Si sente meglio? Mi scusi per ieri sera. Lei vuole molto bene ad Anna. Si, molto. Lei ha mai parlato di me? Poche volte, ma sempre con temerezza. Eppure si è comportata come se il nostro affetto mio, suo, del padre, in un certo senso, non le bastasse, non le servisse a niente. A volte io mi domando che cosa avrei potuto fare perché tutto questo non accadesse. Come va? 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 Come va?